No, Edoardo, cosa fai? Stai col caldo! Dove? No, cosa ti sei messo un penarello? Sei messo un penarello di palermo? Ascolta, la mamma adesso va a far nascere un bambino. Va bene? E si nasce? E Carlo? Andiamo a far nascere Carlo? Eh? Da sola? Adesso dovete dire che tutti i tuoi uomini ad uscire, che vogliamo vedere ad uscire. Dai, tranquilla o tranquillo, nasci e basta. Non abbiamo detto niente alle nonne perché sapevamo che si sarebbero preoccupate, però. Però io ho detto, è un ora che oggi siamo insieme e ce la ammazziamo. Ma non è stato tanto doloroso, non ho sentito niente. No, signore. Chi è? Papà. Magari la mamma striglia un pochino, tu non ti spaventi, vero? Magari la mamma striglia Magari la mamma striglia Grazie a tutti.